Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. È un piacere rivedere delle facce affezionate, veramente con grande soddisfazione ritrovarvi qui anche quest'anno. Il mio benvenuto personale ai nuovi invece arrivati. Sono la coordinatrice di questo progetto di divulgazione scientifica coordinato dal Dipartimento di Scienze Chimiche, Farmaceutiche e Agrarie e quest'anno abbiamo dedicato il ciclo dei nostri incontri alla salute e al benessere, pensando ipoteticamente di percorrere, di fare un viaggio a partire dal passato attraverso il presente e con uno sguardo ovviamente al futuro. Non rubo altro tempo all'introduzione e ho il piacere di dare subito la parola al professor Marco Bresadola che è il delegato della rettrice alle attività di terza missione e alla valorizzazione dei beni culturali e del public engagement. Marco a tutti voi, benvenuti, sono molto contento anch'io di vedervi così numerosi per quella che è la prima in realtà evento di una serie di iniziative che fanno parte del progetto appunto coordinato dalla collega Katia Contado ma che comprendono anche altri progetti finanziati o per meglio dire cofinanziati dall'Ateneo in questo sforzo che per noi è molto importante di coinvolgimento e di restituzione della ricerca scientifica che viene fatta nei nostri laboratori, nelle nostre biblioteche, nelle nostre aule ai cittadini, a voi, insomma alla società civile. L'Ateneo di Ferrara anche quest'anno ha cofinanziato per una cifra considerevole cinque progetti di public engagement e quindi di divulgazione scientifica presentati dai vari dipartimenti dell'università, questo a cui assistiamo oggi è il primo appuntamento di uno dei cinque progetti e quindi questo è anche un motivo in più per essere qui e avere piacere di essere qua. Ne approfitto per dirvi che, per parlarvi un attimo di un'altra iniziativa sempre dell'Ateneo di Ferrara sul versante della divulgazione scientifica si chiama FameLab, sarà il 10 maggio, è una competizione tra giovani ricercatori di tutta Italia che verranno a Ferrara e che in tre minuti dovranno raccontare a noi, al pubblico, la loro ricerca. Siete tutti invitati a partecipare e anche in realtà a votare queste presentazioni il 10 maggio, io lascio qualche volantino fuori per chi fosse interessato e a tutti voi, a tutti noi in realtà auguro buona visione oggi. Grazie. Grazie Marco e ora la parola al direttore del nostro dipartimento, il professor Remo Guerrini. Grazie Katia, benvenuti a questa iniziativa. Quest'iniziativa è promossa appunto, come diceva Katia, dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche Agrarie. È un'iniziativa il cui titolo, come vedete, è Salute Benessere, un viaggio tra passato, presente e futuro e abbiamo scelto questo titolo perché pensiamo sia anche un argomento aggregante e per questa ragione hanno contribuito alla stesura del programma altri dipartimenti, adesso potrei elencarli tutti, sono il Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie, il Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Prevenzione, il Dipartimento di Medicina Transazionale per la Romagna e il Dipartimento di Studi Umanistici. Questo a testimoniare come l'argomento che abbiamo scelto appunto sia un argomento molto trasversale e di interesse generale per tutti. Salute e benessere sono due condizioni che ovviamente l'uomo ricerca continuamente, quindi se non siamo in benessere, non abbiamo una buona salute, cerchiamo ovviamente qualcosa che ci possa migliorare questo stato, quindi cerchiamo il farmaco. Purtroppo non tutte le malattie si possono curare, quando non abbiamo un farmaco adatto dobbiamo ricercarlo e qui nasce l'importanza costante della ricerca in tutti gli ambiti, è convergente nel migliorare la salute dell'uomo. Per introdurvi un po' l'argomento ho pensato di raccontare una vicenda che magari molti di voi conoscono perché qualche anno fa è stata in tv e anche oggetto di programmi televisivi di attualità e di divulgazione scientifica, che è un po' la scoperta dell'aspirina. L'aspirina è un farmaco che noi tutti abbiamo sicuramente utilizzato, è una molecola che veniva usata fin dall'antichità ed è una molecola che vede, scusate non l'aspirina, trae le sue origini dall'antichità perché anticamente si sapeva che i decotti e gli impacchi di sia fogli che cortice di salice potevano essere utili nel contrastare la febbre e l'infiammazione. Fu un prelato inglese che attorno alla metà del 1700 costruì forse uno dei primi studi clinici in quanto trattò 50 pazienti con una dose ben precisa di foglie di salice macinate con tempi e dosi praticamente ben rigorosamente documentate e scoprì che effettivamente il miglioramento dello stato di salute poteva essere messo in relazione con l'applicazione di questa terapia. Ovviamente nessuno sapeva qual era il principio attivo che veniva estratto dalla cortice di salice, lo usavano, vedevano l'effetto biologico ed erano diciamo così contenti dell'azione. Abbiamo dovuto aspettare fino al 1820 più o meno quando un chimico italiano che si ha fatto una fontana isolò praticamente la salicina che era la sostanza responsabile dell'azione antipiretica e antinfiammatoria delle foglie del salice. La salicina di per sé però non era la molecola veramente attiva, solo successivamente dopo alcuni anni si scoprì che il derivato era l'acido salicilico cioè una sostanza che veniva originata dal metabolismo della salicina e che era il vero responsabile diciamo dell'azione antinfiammatoria dell'estratto del salice. Questa salicina, questo acido salicilico ovviamente e la salicina prima erano sostanze molto costose e quindi la popolazione che ne poteva avere accesso, alla quale era consentito l'accesso era molto limitata. Fu nel 1860 che un chimico tedesco, Kolbe, mise appunto la sintesi dell'acido salicilico e fu in quel momento che noi potevamo disporre di questa molecola che aveva un'azione terapeutica a un costo accessibile a tantissima parte della popolazione sicuramente mondiale e europea. Quindi questo insomma è un esempio di sviluppo di queste molecole. Poi l'acido salicilico è una sostanza diciamo con diversi effetti collaterali e un chimico sempre tedesco che si chiamava Hoffman che lavorava in Bayer aveva lui stesso dei problemi diciamo di infiammazione ma soprattutto il padre che era anziano soffriva tantissimo di dolori articolari e si mise in testa di studiare questo acido salicilico per cercare di migliorarne il profilo diciamo di sicurezza perché era una molecola ripeto molto tossica soprattutto era gastrolesivo e faceva venire l'omito e alcune delle molecole che Hoffman sintetizzò le provò prima su se stesso poi le diede al padre una volta accertato che avevano una certa diciamo sicurezza d'uso e facendo questo scopri praticamente l'acido acetil salicilico che è l'aspirina. Aspirina che Bayer mise in commercio nel 1899 e quindi nel 2019 abbiamo festeggiato i 120 anni di questa molecola e che ancora oggi assieme al paracetamolo che tutti noi conosciamo e al diclofenac vi dico un esempio di prodotto commerciale il voltare rappresentano i tre prodotti da banco più venduti al mondo quindi l'aspirina è ancora diciamo una molecola a distanza di più di 120 anni ampiamente utilizzata. Vi devo anche dire che nessuna azienda attuale si sognerebbe mai di sviluppare adesso una molecola come l'aspirina perché è una molecola con effetti collaterali troppo importanti per poter essere presa in considerazione attualmente per il suo sviluppo. All'aspirina sono seguiti tantissimi altri farmaci antinfiammatori che noi tutti attualmente utilizziamo e di recente è stato anche possibile quasi cancellare la maggior parte degli effetti collaterali che tutti gli antinfiammatori hanno soprattutto con i COX2 inibitori che hanno avuto una certa popolarità anche per me la terapia per contrastare il COX. Quindi vi ho voluto raccontare un po' questa storiella che magari diversi di voi conoscevano appunto per cercare di introdurvi all'argomento di come ci curavamo, come ci curiamo e in modo prospettico come ci andremo a curare. Vi ringrazio dell'attenzione e spero partecipiate anche alle altre diciamo manifestazioni perché abbiamo organizzato con Katia una serie di giornate che sono volte appunto a trattare i vari aspetti che vi ho illustrato. Grazie. Grazie, grazie Remo. Colgo l'occasione solamente per richiamare alcune cose ma non per tediarvi. il programma come stavamo dicendo è abbastanza nutrito. Quest'anno abbiamo una buona serie di appuntamenti che ci terranno compagnia fino a ottobre. Non si legge molto bene ma a ciascuno di voi abbiamo dato il programma che è fedele ma vi suggerisco sempre di dare una controllata al nostro sito perché su quello terremo sicuramente informate tutte le informazioni. L'ultima cosa tecnica che mi preme dirvi è che, prima di lasciarvi ovviamente agli ospiti di oggi, è che al termine di ciascuno dei nostri incontri abbiamo bisogno del vostro feedback così da poter migliorare sempre il modo in cui ci proponiamo a voi pubblico. Per cui vi invito a compilare il questionario di gradimento che vi è stato dato, se volete potete farlo anche online dal sito del nostro progetto e se volete giocare con noi quest'anno anziché utilizzare le foglie come l'anno scorso abbiamo abbellito il nostro albero che per fortuna alla fine dei nostri incontri era tutto verde. Quest'anno abbiamo deciso per rimanere in tema di utilizzare delle capsule o rosse o blu. Rosse se la cosa non vi piace e blu se invece siamo stati sufficientemente bravi da intercettare la vostra attenzione ed avere il vostro riscontro positivo. Per cui all'uscita avrete la possibilità di pescare una di queste due capsule e di inserirle in un vasetto e alla fine dei nostri incontri noi andremo a contare. Speriamo che siano tutte blu quest'anno. Allora intanto grazie mille a tutti voi e lascio la parola al dottor Marcello Simoni che coordina la giornata di oggi che è da inizio al nostro progetto dal titolo Storie di pestilenze e altre calamità. Quindi cedo volentieri la parola e a voi la gestione della giornata. La cosa buffa è che questo ciclo dedicato alla salute e al benessere l'apriremo noi parlando di storie di pestilenze e di altre calamità. Ringrazio innanzitutto l'Accademia di Ferrara per averci richiamato qui e ringrazio per l'invito. Prima di passare al discorso per le proprie vorrei che gli ospiti si presentassero in modo da sapere con chi abbiamo a che fare. Comincio io? Bene. Allora buonasera a tutti. Sono Barbara Bramanti. Sono una professoressa ordinaria dell'Università di Ferrara. Dal 2015 sono all'Università di Ferrara dopo un lungo periodo all'estero e durante questo periodo all'estero ho avuto anche il piacere di essere il principal investigator di un progetto IRC che si occupava proprio della peste, sia da un punto di vista ecologico che da un punto di vista molecolare. Quindi vorrei oggi dirvi qualcosa a questo proposito. Buongiorno intanto. Ringrazio per l'invito. Sono Chiara Beatrice Vicentini, sono dall'Università di Ferrara, sono del settore chimica farmaceutica però ultimamente, negli ultimi decenni, mi sono occupata anche di storia della farmacia e del farmaco. Mantengo, anche se fuori ruolo, l'insegnamento di storia della farmacia e del farmaco e sono presidente dell'Accademia Italiana di Storia della Farmacia. Bene, buonasera, sono Livio Zerbini. Mi sono occupato di peste come storico e come archeologo. Per inciso, anche nell'era del Covid, nel pieno del Covid, sono riuscito a fare i miei scavi archeologici e vi garantisco non è stato semplice, oltretutto in piena sicurezza. Insegno storia romana e storia greca all'Università di Ferrara. Allora, parliamo di peste. Spesso quando si parla di peste, peste e pestilenza, il primo pensiero che ci salta in mente è il Medioevo. Almeno salta in mente a me. Io sono scrittore di thriller storici, maggior parte dei miei romanzi sono ambientati nel Medioevo, tra il 1200 e il 1300, e la peste e il Medioevo sono il primo degli errori che spesso ci capitano, perché il Medioevo viene spesso assimilato alla figura della stregoneria, delle barbarie e della pestilenza. La stregoneria è un fenomeno sociale e antropologico che potremmo meglio identificare nel 1400, nel 1500, cioè al di fuori del Medioevo. Le barbarie sono qualcosa che affliggono il genere umano dalle origini, fino ad oggi, e poi la peste. La pestilenza in realtà si abbatte sul mondo medievale alla fine di questo arco di mille anni. Siamo nei 1346-147, siamo in quello che gli storici definiscono il tardo Medioevo. Dopo di questo avremo l'umanesimo e il rinascimento. Quando la peste si abbatte sul mondo, sull'Europa e sul mondo orientale, erano otto secoli, erano 800 anni che l'uomo non vedeva la peste. Perciò uno dei primi impegni che abbiamo da parte dei medici, degli studiosi, ma anche dei teologi, anche degli abattili, tutti coloro che hanno a che fare con questo fenomeno, è cercare di capire che cosa sia questo morbo, cercare di interpretare le sue manifestazioni, la mortalità delle persone. Altro fatto molto particolare è che la peste diventa un simbolo. L'uomo ammalato diventa un simbolo. Il genere umano diventa una trasfigurazione di Giobbe, che viene punito non dal diavolo ma da Dio. Perciò capire la peste, capire il modo in cui questo fenomeno storico va a incidere sul genere umano e capire anche la storia, capire anche la storia del pensiero. Ecco perché è uno dei miei tanti romanzi, ambientato nella Ferrara della metà del 1300, e faccio vedere la peste attraverso gli occhi di un cavaliere francese che arriva in questa città e vede questa grande moria, vede addirittura in questa scena quasi filmica i cadaveri che vengono gettati giù dalle mura. Ma questa è una visione letteraria. Io tra i nostri ospiti vorrei chiedere innanzitutto a Barbara, tu che hai avuto a che fare anche sullo studio della peste, proprio per quello che riguarda il periodo medievale, come si manifesta questo morbo nel 1300? Allora, ci sono tre forme di peste che normalmente vengono riconosciute, innanzitutto la peste è una malattia infettiva, ma allora non lo sapevano, e dava dei sintomi che erano anche un po' diversi fra di loro, infatti ci sono queste tre forme, una forma è quella più nota a tutti, è la peste bubonica, che è quella che si sviluppa quando l'agente ziologico della peste, cioè il batterio, entra nel derma, passa nel tessuto linfatico, da questo viene trasportato ai linfonodi e nei linfonodi trova un ambiente per riprodursi e quindi genera queste masse buboniche, infiammate, appunto avrebbe fatto comodo l'acido salicilico di sicuro, intanto per cominciare, e genera appunto questo bubone che è anche abbastanza doloroso e poi altri sintomi come appunto la febbre, come delirio, molto spesso si parla anche proprio di delirio, anche perché le febbre erano molto alte. Questa forma comunque, nonostante sia la più nota, quella che spaventa di più, in realtà non è quella più letale, perché la mortalità per peste bubonica va dal 30 al 60% dei casi se non trattata. Molto peggiori invece sono le altre due forme, che sono la peste setticemica, che può derivare anche dalla bubonica, quando il batterio si riproduce nel sangue, quindi passa nel tessuto che normalmente è sterile, nel sangue, e lì si comincia a riprodursi e dà origine ad una sepsi. E in questo caso appunto si hanno tutte le manifestazioni tipiche di questa sepsi, quindi cominciano a necrotizzare i tessuti periferici, quindi a diventare neri, possono anche cadere, quindi insomma si hanno tutte queste manifestazioni. Sia la bubonica che la setticemica hanno una durata di circa una settimana, e la letalità della setticemica, se non curata invece, è quasi del 100%. La terza forma è quella pneumonica, che può essere sia primaria che derivata dalla bubonica, sia quando il batterio colonizza i polmoni, e in questo caso si sviluppa una polmonite fulminante, praticamente, quindi nell'arco di uno, al massimo due giorni, le persone in genere muoiono, la sopravvivenza è veramente molto bassa. È caratterizzata, oltre che da questi fenomeni infiammatori, quelli tipici della polmonite, anche dalla presenza di sangue nell'espettorato, quindi ha delle caratteristiche abbastanza particolari. Ecco, queste sono le tre forme, che probabilmente sono sempre state presenti. Ci sono diversi scrittori che parlano, diversi narratori che la descrivono, mi viene in mente Ken Follett, Mondo senza fine, Falcone nella Cattedrale del Mare, parlano di questa peste medievale che tocca a Firenze, tocca alla Spagna, tocca all'Inghilterra. Ma da dove viene questo morbo? Parlo appunto di questo, nel XIV secolo. Del XIV secolo. Allora, sappiamo, a parte la leggenda un po' dell'assedio di Kaffa, nel senso che in realtà l'assedio c'è stato effettivamente nel 1346, anzi dapprima, perché sono rimasti un paio di anni mongoli, lì a Kaffa, ad assediare appunto i genovesi, perché volevano impadronirsi della città. E alla fine hanno dovuto togliere l'assedio proprio perché gli eserciti mongoli si sono ammalati di peste. Questa è storia, ma la leggenda, nel senso che non è mai stata poi provata, almeno io non lo so, chiedo a Livio. Dopo ci diamo a Livio. Appunto è che in realtà, in risposta, prima di abbandonare l'assedio, abbiano catapultato proprio i loro morti di peste all'interno della città per provocare quella che viene definita la prima guerra batteriologica, insomma, pensando che questo potesse causare delle conseguenze. Quindi da lì, da Kaffa, i genovesi sono scappati, ovviamente, e si sono portati dietro la peste, l'hanno portata in Europa, da lì hanno cominciato ad introdurla. Ma, se me permetti, si sa da poco tempo che l'origine prima deve essere invece stata nell'Asia centrale intorno al lago di Shikul che si trova in Kijistan, non riuscirò mai a dire il nome, nel paese, comunque ai confini con la Cina, ai confini occidentali con la Cina. Appunto si sa che adesso si è avuto anche la prova che è iniziata probabilmente da lì. Dunque dall'Oriente, si è spostata attraverso le vie della seta o attraverso le navi ed è arrivata da noi. Molto probabilmente attraverso le vie della seta. Questa è la... Le vie, proprio, anch'io le definisco le vie perché non ce n'è una unica, sono diversi passaggi su cui c'era un grande transito, era un periodo di grandi scambi anche commerciali e appunto di eserciti, di movimento e questo ha portato molto probabilmente proprio alla diffusione del batterio. Questa è la peste trecentesca, la peste medievale. Tu invece ti sei occupato della peste del secondo secolo, la peste Antonina che probabilmente forse peste non era neppure. Dovrebbe essere stata un'epidemia di vaiolo. Dico dovrebbe perché chi fa il mio lavoro, uno storico antico, si trova a misurarsi con molte assenze nella documentazione. Ad esempio non abbiamo dati statistici se non quelli che noi ritroviamo in ambito archeologico. L'aspetto che vorrei sottolineare è che mi sono occupato di peste credo otto anni fa con un articolo scientifico e me ne sono occupato qualche mese fa perché ho scritto la biografia di Comodo che esce a giorni, Comodo di cui sicuramente avete sentito parlare che credo che tutti quanti abbiate visto il gladiatore e nel gladiatore non si parla di peste tra le altre cose. La mia percezione nello scrivere è stata differente come potete immaginare tant'è che probabilmente se non ci fosse stato il Covid non avrei dedicato le pagine che ho dedicato alla peste Antonina così viene definita perché gli ultimi Antonini furono l'imperatore Marco Aurelio e il figlio Comodo. Fu un contagio che proveniva da Oriente da Seleucia sul Tigri in quel caso ci fu un assedio per collocare Seleucia siamo nei pressi dell'attuale Bagdad e l'elemento detonatore furono i soldati per fare la guerra contro i parti le legioni romane si trovavano in quel contesto servivano 16 legioni quindi un numero anche impressionante di persone considerate una legione 6.000 soldati fu l'elemento detonatore anche perché l'impero romano tutti quanti sapete l'estensione che aveva l'impero romano più di 6 milioni di chilometri quadrati all'interno dell'ime però la civiltà romana si propagava di fuori quindi l'impero romano che era universalistico in cui si poteva viaggiare senza tanti problemi in cui i soldati appunto si spostavano perché una volta che i parti furono vinti ritornarono appunto in Italia e portarono con sé la peste 166 avanti Cristo e durò per più di 20 anni perché ci fu una seconda ondata altrettanto terribile quando divenne imperatore comodo alla morte di Marco Aurelio e gli effetti furono devastanti forse i miei colleghi e anche io per certi aspetti abbiamo sottovalutato la portata della peste perché fu un momento veramente difficile per Roma in cui il frangente Roma rischiava di collassare c'erano le invasioni delle tribù germaniche i quadi e i marcomanni la peste che falcidiava i soldati tant'è che ci sono dei passi che dicono che Marco Aurelio dovette arruolare tutti addirittura coloro che erano detenuti per cercare di sopperire alla situazione di emergenza dal punto di vista bellico abbiamo dei passi delle fonti in cui si dice che a Roma c'erano addirittura mille persone al giorno che morivano e gli effetti dicevo furono devastanti nulla valse l'opera di quello che era il più importante medico del tempo Claudio Galeno che è noto i farmacisti perché la galenica sappiamo che è il metodo appunto per preparare i farmaci e Galeno scrive ne sono appuntato qui indica quelli che sono i sintomi anche se non parla molto dei sintomi Galeno perché si sofferma sui tentativi per arginare l'epidemia e dice febbre alta pustole nere o nerastre sulla pelle lesioni nella cavità orale nella faringe voce alterata tosse accompagnata talvolta da espettorato di sangue o di mucose emorragie interne feci annerite nausea vomito alito fetido ulcere e vesciche in ragione di questa sintomatologia ma abbiamo pochi riferimenti da parte di Galeno si ipotizza che si trattasse di vaiolo e addirittura anche gli artisti del tempo nelle ceramiche in cui si riproduce l'effigie umana rivolgiamo proprio anche l'effigie di persone che hanno queste vesciche e quindi la storia dell'arte in questo caso è stata utile per definire un po' meglio la sintomatologia dell'epidemia del tempo grazie Chiara da te invece vorrei sapere qualcosa di un'altra dimensione temporale il periodo manzoniano la peste manzoniana quella di cui abbiamo parlato anche allora io ho cominciato ad occuparmi di peste molti anni fa nel 2008 abbiamo fatto una mostra alla biblioteca ariostea una mostra sulle farmacopè per cui abbiamo fatto una lunga idagine nei materiali della biblioteca ariostea e dell'università e io di solito quando vado negli archivi e nelle biblioteche fotografo però fotografo anche un qualche cosa che è al di fuori di quel mi interesse particolare del momento e sono incappata in molti documenti riguardanti la peste che poi non abbiamo ritenuto di inserire nel percorso di visita e c'era un reggimento contro la peste c'erano dei regolamenti c'erano dei bandi una produzione un manoscritto che era precedente alla pubblicazione del reggimento contro la peste che cosa era successo che all'inizio del 1500 1528 c'era stata una forte peste che aveva fatto 20.000 morti a Ferrara in quel momento chiamano un medico spagnolo Pedro Castagna che arriva con il suo medicamento risolutivo detto il composito il composito e poi scrive anche un reggimento contro la peste che dà tutte le regole igieniche sanitarie e anche i calendici che possono essere usati per cui arriva con questo composito segreto rimane che tra l'altro contratta con gli estensi ottiene dei benefici terreni eccetera qualcuno lo chiama ciarlatano ma era effettivamente un ciarlatano allora questo composito segreto difatti viene citato Pseudo Savonarola che è quel manoscritto medico cosmetico che non è da Savonarola perché è cinquecentesco ecco lì viene citato questo olio contro la peste però come si usa però la composizione non si conosce addirittura nella farmacopea degli grisoli del 1723 viene indicato ma non c'è la composizione allora dovevano pur comprare le materie prime per preparare questo composito ecco io ho trovato gli ordini effettivamente c'era l'olio di scorpione che è in tutti gli oli quell'olio del duca del gran duca di Toscana quello di di San Bernardino e poi comprava altre materie prime di natura vegetale e facendo un confronto è presso poco quello del mattioli che è pubblicato nei discorsi del mattioli poi quindi questo composito che aveva alla base soprattutto l'olio di scorpione gli scorpioni venivano catturati nella stagione calda in cui si pensava che fossero più avessero più quantità di veleno poi erano venivano nell'olio e si lasciava liberare il veleno e quindi questo olio poi c'erano grandi scorte di aceto all'interno del castello estense poi c'è il manardo che parla di sacchetti e dà la composizione di queste miscele che c'era la composizione per l'inverno e la composizione per l'estate venivano messi in questi sacchetti e questi sacchetti venivano messi sotto alle vesti poi sempre queste composizioni potevano essere messe in una palla di cipresso vuota con dei forellini insieme con ecco poi nei secoli successivi saranno più nobili più preziosi con preziosi e quindi le polveri insieme con dell'acqua di rose dell'aceto eccetera un liquido questi li battevano sulle mani e si lavavano le mani si lavavano il viso eseguivano un'igiene poi altre cose che vengono indicate le case dovevano essere pulite pulite poi ho trovato il bando c'è un bando che dice che si possono anzi sono obbligatori i controlli delle case per vedere se erano pulite quindi case pulite in ordine ben areggiate la camicia pulita la mattina esposta al fuoco i panni del letto e anche gli abiti esposti al sole quindi tutta una serie di regole di ordine comprendenti anche questi galenici in più c'è una nota particolare non parlano mai di ratti di topi è vero? a Ferrara non parlano mai Ferrara era una città pulita perché la stricata già dal 300 400 avevano iniziato per cui insomma pulita poi aveva anche un sistema fognario quindi era una città di rilievo però parlano di cani allora diciamo che Sarocco il cane vicino perché il cane è un qualche cosa che garantisce che non è portatore cioè che non sia male di peste però il castagno cosa dice attenti che i cani portano la peste da una casa all'altra il vettore della peste che è la pulce che può essere la pulce umana può essere la pulce del cane la pulce del gatto si chiama canis fellis è lo stesso nome eccetera la pulce in lavori recenti che riguardano l'Africa si dice l'ambito domestico l'ambito peri domestico ci sono anche i polli perché anche i polli hanno le pulci quindi avevano individuato che questo cane o altri animali domestici perché dicevano state attenti che per la città se vedete animali morti bruciarli immediatamente senza toccarli quindi avevano capito che oltre ai cani citano i cani ma anche gli altri animali compresi i maiali che hanno la pelle glabra come l'uomo e quindi possono essere ospiti perché c'è anche pidocchio volendo c'è anche pidocchio per cui questi cani in una casa la pulce saliva sul cane il cane andava in un'altra casa e in un'altra casa la pulce si andava dal cane e quindi avevano capito questo allora io ci ho studiato su ho cercato una chiave di lettura perché nell'ultima peste del Cinquecento e soprattutto nella peste del 1620 quella manzoniana Ferrara è praticamente immune da peste immune da peste e concludo ho finito il mio tempo no se vuol dire pensavo volessi aggiungere qualcosa perché ero curioso devo aggiungere qualcosa pensavo di aver finito il tempo allora mi sono messa all'opera e ho fatto tutto l'elenco e in questo c'è questo 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 in questo c'è questo 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 ho aperto PAMED PAMED è una banca dati che dà tutti i lavori si mette una chiave una chiave una certa ad esempio dal punto di vista botanico una certa pianta poi si dice profilo fitochimico da tutti i principi attivi oppure la pianta e si dice antibatterico oppure la pianta e si dice insetticida insetto repellente quindi ho fatto tutto questo lavoro di screening e sono arrivata a dire che non sapevano che era un batterio non sapevano che si chiamava Iersinia pestis però usavano antimicrobici non sapevano che era un vettore ospitato da però usavano insetticidi e insetto repellenti i famosi sacchetti ecco in più arieggiavano le case eccetera studi recenti sempre dell'Africa dicono che la temperatura l'elevata temperatura e una bassa umidità sono a sfavore della peste quindi queste case arieggiate col fuoco sempre acceso e quindi con un'umidità bassa potevano in più il fuoco le larve esposte al fuoco si desidratano tutti gli indumenti che mettevano al sole tutto esposto al sole eccetera era per impedire che la larva potesse dare potesse essere distrutta distrutta insomma per cui diciamo che forse io dico sempre che è il più grande studio clinico la storia il più grande studio clinico perché a un certo punto non sapevano però erano arrivati a trovare dei rimedi efficaci dopo eventualmente potremo parlare anche di altre misure che mettevano in atto sono state le prime misure intanto passo il microfono a Barbara le prime misure logiche che hanno confinato questo contagio Livio ci ha parlato dei soldati che sono stati probabilmente il vettore della peste o di quello che è stato di questo morbo del secondo secolo Chiara ci ha parlato dei cani di tutte queste cose che possono avere gli animali eccetera che possono avere aiutato la trasmissione favorito la trasmissione Barbara tu so che hai una teoria anche sul commercio delle pellicce addirittura cioè questo movimento di questo contagio da oriente a occidente che possa aver avuto dei legami a un determinato tipo di materiale oltre che alla classica teoria dei topi sì allora devo fare un passetto indietro e spiegare che la peste non è una patologia umana nonostante tutto proprio noi siamo ospiti occasionali è devastante ma non è umana ed è classificata come una zoonosi cioè una patologia infettiva degli animali questo perché ci sono degli animali che sono resistenti o parzialmente resistenti alla peste e quindi costituiscono dei reservoir questi reservoir si trovano in diverse zone sia dell'Asia che dell'Africa attualmente e dell'America America anche del nord oltre al centesimo parallelo qualcosa che è arrivato con la terza pandemia che è iniziata nel 1894 ecco il ho perso un attimo il filo parla di reservoir che non è l'essere umano ma sono questi animali questi reservoir che formano questi reservoir e sono soprattutto dei piccoli roditori selvatici sono diversi nelle diverse zone però quello che è interessante è che condividono tutti un habitat quindi un ambiente ecologico abbastanza simile quindi si ritrovano in zone semidesertiche e o desertiche anche in genere ad una certa elevatura della montagna anche se non troppo in alto e appunto pratica un reservoir costituito dal roditore selvatico marmotta il grande gerbillo se ne possono dire tantissimi e dal battere ma anche dalle pulci dei roditori che appunto sono quelle che trasmettono dall'uno all'altro normalmente questi roditori non soccombono proprio hanno sviluppato una forma di resistenza che fra l'altro è stata provata anche geneticamente ad Oslo dai nostri laboratori su e quindi mantengono sempre la peste non scompare anche se scompare dal ciclo umano non scompare dall'ambiente e quindi ogni tanto riemerge ritorna fuori quando riemerge c'è una teoria che è la teoria trofica che dice che quando ci sono dei cambiamenti climatici cioè comincia a piovere in queste zone semidesertiche si sviluppa vegetazione e quindi gli animali hanno più cibo a disposizione e cominciano a riprodursi si riproduce il roditore si riproduce anche la pulce e si riproduce ovviamente anche il batterio se dopo questo periodo di abbondanza c'è però una siccità molto pesante e prolungata come è tipico alla zona desertica ovviamente questa popolazione allargata comincia a soffrire di fame e quindi cominciano a cercare il cibo da altre parti e poi si ammalano di più muoiono di più e quindi cominciano cercando il cibo da altre parti ad entrare negli insediamenti umani a venire a contatto o direttamente con gli esseri umani o con i appunto riuditori per i domestici che sono i ratti soprattutto ecco questo modello si adatta perfettamente alla peste del 1894 e quelle successive in Cina e anche in America perché lì ci sono i reservoir quindi per questo si vedevano ci raccontano appunto gli storici di poco tempo fa si vedevano le strade coperte di cadaveri di ratti ecco cosa che invece non si vede nel medioevo in Europa ecco quindi questa è già una caratteristica della situazione quindi poi l'idea è che a questo punto essendo entrati questi ratti quindi sono sensibili non sono come quelli selvatici sono sensibili e quindi quando cominciano a morire le loro pulci che abbandonano il cadavere perché la temperatura si abbassa e cominciano a contagiare anche gli esseri umani e quindi si crea un ciclo in cui è il il ratto che sostiene le epidemie in questi in queste località ma non nell'Europa come vi diceva prima anche Chiara ma non ci sono assolutamente testimonianze di ratti morti Boccaccio parla dei maiali parla di tanti animali domestici non c'è una parola sul ratto ma non c'è nemmeno una rappresentazione in tutte le meravigliose rappresentazioni della bestie anche quelle che sono il museo della specola di Firenze le cere non c'è assolutamente mai una parola o un'immagine di un ratto quindi insomma il nostro punto di partenza era appunto chiedersi come mai come mai se poteva esserci un meccanismo alternativo e la nostra proposta che noi abbiamo studiato per molti anni è proprio stata quella in cui parlava anche chiara cioè che siano anche altri parassiti come la la pulce umana che comunque recentemente è stato smentito non pare che non possa essere stata la pulce umana ma altri come per esempio noi abbiamo molto in sospetto il pidocchio del corpo anche perché una delle caratteristiche tipiche che si ritrova in molti racconti delle bestie anche del passato anche quella del 1600 1630 appunto era che c'era proprio uno scambio di abiti in genere gli abiti delle persone decedute venivano poi venduti oppure passati ad altri e in questo modo appunto visto che la larva del pidocchio del corpo si annida negli abiti è possibile anche che ci sia stato uno scambio quindi abbiamo studiato questa questa possibilità invece nel secondo secolo Livio come si è propagato il contagio? Beh dicevo prima si è venuto dall'Oriente apro una digressione il contagio colpì anche la Cina l'impero cinese in quel frangente c'era la dinastia Han che ha avuto un'ascesa è una parabola simile a quella dell'impero romano abbiamo qualche riferimento nelle fonti negli annali della dinastia Han quindi fu un fenomeno globale quindi potremmo parlare a ragione di pandemia appunto furono i soldati dicevo in ragione della promiscuità perché i soldati vivevano insieme vivevano anche nelle caserme appunto in stretto contatto e quello fu l'elemento detonatore c'erano poi effetti della peste dovuti dicevo prima anche alla peculiarità dell'impero romano l'impero romano fu un impero di strade i romani costruirono centomila chilometri di strade un'entità impressionante e quindi il virus potremmo dire il virus romanus circolava anche sulle strade essendo un impero così esteso evidentemente il contagio si diffuse dappertutto io ho fatto recentemente un calcolo di quanti paesi i romani toccarono che dominarono arrivarono si insediarono anche piccole parti di territori pensate 51 paesi sugli attuali 204 paesi del mondo quindi capite bene che in una situazione di questo tipo il contagio si diffuse dal punto di vista archeologico ad esempio in Britannia è stato ritrovato in un pozzo un numero significativo di persone uomini donne bambini 99 se non vado errato evidentemente in questo caso insomma essendo il rinvenimento attribuibile cronologicamente intorno al 170 dopo Cristo è evidente che era in piena pandemia ma possiamo dire andando dalla parte opposta andando in prossimità del Sahara nell'oasi di Fayum che è nota per i ritratti che forse avete visto quegli straordinari ritratti delle persone che vivevano lì in quel contesto su una popolazione di un piccolo villaggio 246 persone sono attestate 76 morti quindi all'incirca un terzo abbiamo queste date in ragione dei papiri che sono stati ritrovati la letalità era ovviamente significativa possiamo dire che fu la più terribile peste il più terribile contagio dell'antichità pensate l'impero romano nell'età degli Antonini aveva tutto quanto l'impero circa 65 milioni di persone è presumibile pensare che il contagio colpì il 20-22% della popolazione non abbiamo dati statistici evidentemente ma sono i dati archeologici in qualche modo che ci danno delle informazioni significative a questo proposito tenendo conto poi che il morbo colpiva le classi più fragili le classi più deboli nella seconda ondata di pestilenza Commodo su consiglio appunto di Galeno si ritira nella sua villa cioè fa quell'isolamento che abbiamo conosciuto tutti quanti noi questo non era possibile per chi viveva in quei condomini che c'erano a Roma o che si vedono molto bene ad Ostia si chiamavano insula perché vivevano parecchie persone e quindi era impossibile del resto isolarsi anche perché l'allacciamento all'acquedotto appunto diciamo così cioè la possibilità di avere l'acqua a disposizione avevano solamente i ricchi nelle loro domus gli altri si andavano a rifornire alle fontane e quindi evidentemente il contagio colpiva le fasce più deboli della popolazione certo le fonti mettono in evidenza che fu terribile tant'è che abbiamo degli autori tardi del IV secolo dopo Cristo come Eutropio che ancora insiste nel riconoscere nella peste che è passata alla storia come Antonina un terribile morbo che ha colpito tutti quanti che ha colpito probabilmente anche la famiglia imperiale questo non lo sappiamo Faustina Minore la moglie dell'imperatore Marco Aurelio stabilì un vero proprio record ebbe 13 figli ne sopravvissero solamente 4 in questi casi quando appunto un neonato o un infante era colpito da questo morbo non veniva indicato dalle fonti perché rientra il discorso che facevi tu Marcello che il fatto di essere colpiti da un contagio insomma era qualcosa di per sé di anomalo che forse era meglio tacere nelle fonti grazie Lino hai usato una parola molto prego se si avvicina allora so grazie a tutti grazie a tutti Grazie. Allora, siccome sono appassionata della storia di Ferrara, soprattutto dell'epoca estense, volevo chiederle quando è che Ferrara ha subito la peste, perché mi risulta, poi mi dirà lei se è vero o meno, che nel 1438 doveva esserci il concilio di Basilea qua a Ferrara, ma è stato spostato a Firenze a causa della peste. Poi mi risulta che nel 1505 è arrivata la peste che causava circa 70 morti al giorno. Lei parlava prima del 1520 quando poi è stato chiesto, come? 1528, quando poi è arrivato questo Pedro Castagna che ha creato questo composto e poi nel 1620 quando parlava della peste manzognana. Quindi mi sarebbe piaciuto sapere quando Ferrara ha subito la peste, in che modo e come è stata trattata nei vari periodi. Allora, lei ha ragione. La peste a Ferrara fu colpita diverse volte dalla peste e c'è stato un anno che mi pare di ricordare il 1528 ma non ne sono sicura perché la mia memoria ha sempre avuto poche caselle. Ci furono 20.000 morti. Allora, di questa parte io non mi sono occupata, mi sono occupata principalmente e dello studio dei documenti, quelli del Castagno, di Pedro Castagno e del figlio che poi sono stati ripresi dal figlio Alessandro. e nel 1600 era lo speziale del Sant'Anna che si era occupato della pubblicazione, Sperelli che si era occupato della pubblicazione del reggimento. Io della prima parte non mi sono proprio occupata. Mi sono occupata di questi documenti e principalmente della peste manzognana. Nessuno degli stensi è stato colpito? Questo non glielo so dire perché non mi sono occupata della cosa. L'argomento è talmente vasto che come vede siamo in tre e non riusciamo a coprirlo tutto sicuramente. Io posso dire allora per quello che so, per le ricerche che ho svolto per i miei romanzi, la peste medievale con la classica del 1346-47 colpisce senza altro Ferrara. All'epoca gli estensi erano duchi, anzi marchesi probabilmente, però non si sa quanto o in che modo il contagio abbia inciso sulla famiglia degli est. Sappiamo che ci sono molte famiglie nobili che comunque vengono estinte al punto che si dovrà ripopolare Ferrara anche dal punto di vista nobiliare in seguito perché molti feudi restano spogli di padroni. È una peste che viene senz'altro anche toccata o sensibilizza senz'altro anche i monaci di Pomposa che subito dopo la grande pestilenza del 1351 eseguono l'affresco biblico dove c'è un grande spazio dedicato a Sant'Eustacchio, eseguito da Vitale e da Bologna, Sant'Eustacchio nel Medioevo diventa il protettore, il primo protettore della peste. Riguardo il concilio di Basilea è molto interessante perché secondo alcuni è stato un inganno politico orchestrato da Cosimo de' Medici. Arrivava il concilio di Basilea, arrivavano con i patriarchi, i nobili, un grande seguito di persone che portavano teologia, portavano libri, ma portavano anche mercato e denaro. Era il periodo in cui le grandi banche di Firenze iniziano a prestare denaro ai papi e Cosimo de' Medici aveva tutto l'interesse che il concilio ecumenico non si tenesse a Ferrara ma a Firenze. Perciò secondo alcuni è lui a spargere la voce e a dire che a Ferrara c'era la peste. E questo ha spaventato a tal punto il seguito papale dei patriarchi da portarli a Firenze dove di fatto c'era anche lì la peste. Però secondo alcuni è stato veramente un cortocircuito economico che ha destabilizzato un pochino anche gli equilibri storici. Tant'è vero che tutte le grandi città storiche sorgono vicino al mare, mi viene in mente Napoli, Venezia, Londra. Firenze è l'unica città che invece riesce a mantenere la ricchezza pur essendo lontana dal mare per la furbizia proprio dei medici. Secondo alcuni, secondo altri poi la peste invece c'è stata realmente a Ferrara. Non so se Livio... Se posso dire qualcosa? È evidente che la peste, come hai detto giustamente tu, poi ricorre, si ripresenta anch'io come la signora ricordavo quell'episodio di quel maragna mi pare e così via che ricordava questi morti sepolti anche come si fa solitamente anche durante l'impero romano in fosse comuni per evitare poi insomma che venissero svolte le cerimonie funebri. Dobbiamo però tener conto anche di una cosa che talvolta sottovalutiamo. Noi quando pensiamo alla storia abbiamo l'idea che la storia è sempre verso una positività, un progresso. Le condizioni igienico-sanitarie, anche in pieno rinascimento, non necessariamente erano migliori rispetto a quelle dell'impero romano. Tant'è che Galeno, che ho ricordato poco fa, fu in auge, fu un punto di riferimento per l'Arts Medica, l'arte della medicina, fino a tutto quanto il rinascimento. Quindi è presumibile che ci siano state pestilenze di questo tipo e anche significative. Ciò non toglie che non credo abbiano toccato da quello che ricordo io gli estensi perché insomma sicuramente sarebbe stato anche usato in maniera strumentale, come dice opportunamente Marcello, in ragione appunto di quella che poteva essere la propaganda politica contraria. Ma si ritorna al discorso di qui sopra. Avevano più opportunità coloro che erano agiati di difendersi dal contagio rispetto alle fasce più deboli della popolazione. Barbara vuoi aggiungere qualcosa al riguardo? Sì, che è uscito un lavoro proprio recente che dice invece il contrario, però si parla delle peste più avanzate, cioè che non erano sempre le persone meno abbienti perché hanno scoperto in un lazzaretto in Lombardia, hanno studiato questo caso, da testi storici, hanno scoperto che invece i ricchi evitavano di andare nei lazzaretti perché non era un bell'ambiente secondo loro e le persone meno agiate invece avevano un grande vantaggio perché in quella condizione riuscivano a mangiare meglio, a nutrirsi meglio, c'erano condizioni igieniche un po' migliori eccetera. Ecco quindi sì, in genere è vero, però per esempio in questo lavoro hanno dimostrato che in certi casi erano proprio anche le persone più abbienti che preferivano, appunto, appunto. Perché Ferrara ha una tradizione storografica abbastanza ricca e perciò penso che sarebbe trappelato senz'altro qualcosa. Ho studiato bene in quel periodo, quindi sei la persona più indicata. Allora, dicevo che hai studiato bene perché chi scrive si documenta evidentemente, si documenta molto, per cui sicuramente avresti incontrato delle notizie nei romanzi che hai dedicato agli estensi. Avrei subito sfruttato per il romanzo, un estense morto di peste non me lo sarei lasciato sfuggire. Prima, Lisi, hai usato una parola molto moderna per un fenomeno storico del secondo secolo, la parola pandemia, perché di fatti fu una pandemia quella del secondo secolo, quella del 1600, quella del 1300. La prima volta che abbiamo parlato, Chiara, tu hai parlato del modo, delle similitudini, non solo dal punto di vista dell'impatto psicologico, ma dal punto di vista pratico, di come la pestilenza è stata trattata in modo simile alla pandemia del Covid. Bene. Allora, parallelamente allo studio dei rimedi di cui ho parlato prima, analizzando, come ho detto, il reggimento, i regolamenti e poi i report che sono stati fatti dopo la peste mazzoriana, mi sono imbattuta anche nelle regole dal punto di vista sanitario di contenimento per evitare che la peste entrasse nella città di Ferrara. Quindi avevo raccolto questi materiali, eravamo, qui in sala c'è il professor Contini, infettivologo, eravamo nel furore del Covid e ci siamo confrontati, questo succedeva allora, questo state facendo adesso. Ovviamente c'erano cordoni sanitari che alla frontiera, quindi c'erano i blocchi di fenterea vigilati, ovviamente se la peste fosse filtrata, comunque la città di Ferrara aveva uno staff di salute pubblica molto molto ben organizzato perché c'erano due presidenti che poi tra l'altro venivano, ma in pianta stabile, due presidenti che venivano rimpiazzati a cadenza, tra l'altro veniva rimpiazzato sempre il più vecchio in modo che fosse garantita la presenza di due presidenti, poi nobiluomini, un medico, ma anche un commerciante perché c'era il problema del commercio e quindi questo staff doveva vigilare anche su questo aspetto. Quindi era in pianta stabile, nel momento in cui si avvertiva che negli stati vicini si stava diffondendo un morbo quale quello della peste, si metteva in atto tutta una serie di misure e di vari stati di allerta. C'erano quattro stadi di allerta, per cui alle porte nel primo stadio c'erano le guardie e un nobiluomolo, poi successivamente si aumentava lo staff fino ad arrivare al quarto grado in cui c'era anche il medico alle porte. Ovviamente come abbiamo visto per il Covid avevamo la patente di Green Pass, avevamo tutti i documenti. Alle porte lo straniero che voleva entrare in città aveva le fedi, allora c'era tutta una grafica della persona anche con le caratteristiche somatiche eccetera. E poi era garantito che veniva da una zona esente da peste, non veniva da una zona rossa. Poi se qualcuno cercava di... alle porte di Ferrara c'erano addirittura le forche e poteva essere chiamato il popolo, uno scampanellio, arrivava il popolo ed era libero di fare giustizia sommaria con la certezza di non essere perseguito. Quindi delle barriere molto... chi sei? Cosa porti? Perché guardavano anche le merci che entravano e tra l'altro c'era anche, prima che mi dimentichi, c'era il discorso anche della macellazione delle pelli che dovevano andare direttamente alla concia. Ovviamente nelle merci che entravano in città stavano attenti anche a questo particolare, ovviamente non ci dovevano essere stracci eccetera. In città non volevano vagabondi, non volevano... i poveri venivano, che erano quelli più deboli, venivano ospitati nei conventi più ricchi, in modo che veniva garantito anche un... evitare che fossero colpite le fasce più deboli. E per questo, tra l'altro, spesero molti, molti denari per tenere in piedi tutta questa... questo staffa. Poi altre cose, appena si aveva il sentore che ci fosse un malato di peste, era scritto papale papale, si doveva considerare peste qualsiasi caso sospetto. Quindi la persona veniva con i familiari e veniva portata in un lazzareto. I lazzaretti avevano pensato, vedendoli in furiare, avevano pensato addirittura all'isola del Bonello, che era un'isola davanti a Gaiba. Avevano pensato in grande, che poi non hanno utilizzato. Poi c'era San Luca, che poi è stato utilizzato, ma anche San Giorgio dove avevano allestito i centoletti. Le darsene delle galere dove avevano anche lì cercato di allestire un ricovero in caso, perché ovviamente il vecchio lazzareto non era più utilizzabile, quello delle peste precedenti. Quindi ogni caso sospetto, c'è chi si occupava della posta, che era sospetto di peste, e quindi viene portato subito al lazzareto. Un putto, chiudono tutte le scuole per sicurezza. Poi per l'ispezione non era il medico che andava, perché a cento avevano perso sei medici andando direttamente sul campo. Se andavano il cerusico, il barbiere, che erano... Il garzone, altro che medici in prima linea. Esatto, esatto, medici in prima linea. Poi un'altra cosa, avevano organizzato la città in quartieri, in quartieri, per cui c'era uno staff di controllo. Allora tutte le persone erano, in ordine alfabetico dicono, la tal persona è collegata a questi familiari, i vicini sono questi, per cui immediatamente in caso di sospetto portavano in isolamento e così si evitava il contagio. Poi tutte le sue pellette li bruciate, eccetera. Ma anche i confessori, c'erano i confessori che si sacrificavano per uscire. Poi un'altra cosa, un altro particolare che abbiamo visto nel discorso... Dove erano i Lazzaretti a Ferrara? Ho detto, nella peste della Manzoniana, 1630, avevano attrezzato, il Bonello non l'hanno usato, avevano attrezzato San Giorgio, stavano attrezzando anche in Darsena dei locali per... Era San Luca. Poi c'era Ponte Lago Scuro? No, stavo parlando di chiese, era un altro discorso. Delle chiese sono un'altra cosa. Allora, parlando delle chiese, anche durante il Covid sono state chiuse. Lì hanno tolto i banchi e facevano le funzioni in strada e quindi per evitare gli assembrimenti. Quindi era tutto studiato in maniera... Ma in chiave moderna, ma anche i dispositivi... I dispositivi, le telecerate. Sembra di vedere il Covid. Le telecerate dei medici, che per far scivolare le pulci, non si attaccavano. Quelle lozioni che ho citato prima era la lozione di Amuchina, che noi usavamo poi. Con questo si lavavano le mani, si lavavano il viso. Potevano anche... Era consigliato anche ripetutamente di passare anche su altre parti del corpo. Quindi, questi pomard davanti alla bocca. Ecco, a Ferrara invece, è vero Carlo, non abbiamo visto il famoso becco, che è il seicentesco, che però è in altre zone. Il dottor Corbus. Al massimo hanno la spugna bagnata di aceto, che anche l'aceto è... Poi altre cose che mi dimentico, Carlo? Certo, i medici venivano preservati, perché hanno detto, state attenti, non venivano mandati in prima linea, perché avevano detto, a cento, state attenti, che i medici sono entrati nel lazzaretto e hanno perso sei medici. Ci mandavano gli apprendisti? Sì, mandavano, di fatti, il cerusico e il barbiere, che erano il personale sanitario, che era... Come possiamo chiamarle? Chi possiamo chiamarle? Gli infermieri? Guarda, gli specializzanti. Allora, avvicinandosi alla fine, le domande le terei verso la fine, se c'è spazio, perché se no non riusciamo... Anche perché l'ultimo giro di domande è per chiudere, perché ormai stiamo veramente agli sgoccioli. Allora, mi hanno detto di tenere, non tenere alla fine degli argomenti particolari, perché guarda che dopo si farà l'aperitivo, dobbiamo bere e mangiare, perciò dobbiamo essere. Allora, hanno detto, mi raccomando, l'olio di scorpione, cerca di parlare, l'abbiamo già affrontato. Non ho detto che l'olio di scorpione, lo scorpione, antibatterico, ma anche antitumorale, eccetera, è eccezionale da tutti i punti di vista. Domani tutti andiamo a cercare l'olio di scorpione in farmacia, in erboristeria. Però l'altro argomento che a me, veramente, come scrittore di thriller, ha toccato parecchio, ecco, solamente un appunto. Tu hai parlato, Barbara, dello studio della peste attraverso l'analisi del DNA degli scheletri medievali. A me ci sono subito alzate le antenne, ecco. Proprio qualche parola velocissima prima di passare di nuovo il microfono a Livio. Sì, allora, non c'è nessuna evidenza sui corpi, sono appunto da antropologa fisica, noi studiamo gli scheletri e non c'è nessuna evidenza di peste. Come vi dicevo, dura una settimana più o meno fino all'exitus oppure alla guarigione e quindi non c'è il tempo per cui vengono ad esserci delle tracce sullo scheletro. Quindi non c'è neppure modo per noi per riconoscere le vittime. L'unica cosa, come diceva Livio prima, sono le tombe di massa. Noi abbiamo cominciato così, abbiamo cominciato a lavorare su delle tombe di massa e a cercare nei vari distretti ossei ma soprattutto nei denti e abbiamo così, siamo riusciti dopo tanti tentativi ad isolare i primi batteri di Ersinia pestis del passato, proprio del periodo del 1348, i primi sono stati 1348, cioè la Black Death, ma anche 1356 la pestis seconda, sono le prime due che abbiamo analizzato e siamo riusciti anche a piazzarle su un albero filogenetico che quella è stata proprio la prova definitiva che non erano moderni, quindi non erano contaminazioni e quindi erano effettivamente quelli. e poi siamo riusciti un paio d'anni dopo ad isolarli anche da quelli della prima pandemia con una collaborazione con i nostri colleghi tedeschi e l'unico modo per poter non solo fare una diagnosi post-mortem della peste ma anche il modo per avere un sacco di informazioni proprio sul battere stesso, per esempio un'altra cosa che noi abbiamo visto è che verso la fine delle pandemie sembra attenuarsi l'effetto del proprio perdono del materiale genetico quello più virulento e quindi sembrano voler appunto attenuare indebolirsi ecco per quasi resistere di più all'interno del loro ospite e non farlo morire. Quindi ancora una prova in più se non bastasse anche tutto quello che ha raccontato Chiara del fatto che c'era proprio una grande importanza della trasmissione da uomo a uomo i ratti hanno avuto veramente un ruolo poco significativo anche durante la terza pandemia che ha dato dei casi in Europa pochi rispetto al passato dove si parla di decine di milioni per cui nella terza pandemia dal 1894 al 1945 perché l'ultima epidemia in Europa è stata nel 1945 ed è stata proprio in Italia a Taranto nel porto di Taranto non a caso in un periodo di fine della guerra in un periodo appunto di confusione anche perché era un periodo di interregno ci sono stati 30 casi con 15 decessi e quella è stata l'ultima epidemia in Europa un attimo che cosa l'hai chiesto cosa hanno usato gli insetticidi hanno usato gli insetticidi sì però essendo abbiamo non abbiamo ricostruito noi la storia ma l'hanno ricostruita proprio degli storici locali parlando anche con i testimoni dell'epoca e proprio perché era un periodo così di interregno loro hanno avuto un grande supporto anche dall'esercito americano anglosassone che aveva già a disposizione i primi antibiotici e quindi gli sono stati forniti quelli e insetticidi per combattere appunto i parassiti Livio tu da secondo secolo non hai analizzato degli scheletri però le fonti soprattutto penso che siano le fonti ma le fonti ci raccontano quello che c'è rimasto evidentemente delle fonti ma come ha detto bene Barbara sono poi le fonti archeologiche le fosse comuni e così via che ci danno delle informazioni e trovare le fosse comuni non è una cosa semplice e poi abbiamo altre testimonianze indirette di cui è necessario tener conto perché che cosa ha comportato il covid 19 per noi che ovviamente ha avuto un effetto nefasto sul pil ecco e in effetti se andiamo a vedere gli anni dal 166 al 190 dopo Cristo troviamo un brusco calo in tutti gli ambiti dal punto di vista dell'atrofizzarsi dei traffici economici prima ricordavo ad esempio la Britannia la Britannia era importante per i romani per la produzione dello stagno dal 166 in poi praticamente non ci furono più esportazioni di stagno la dimostrazione che è la cartina al tornasole di un evento epocale quello appunto della pandemia che non poteva essere frenata per quanto riguarda la peste Antonina come si è detto prima da Mura i romani nel periodo degli Antonini erano in uno dei momenti del loro apogeo quindi non c'erano Mura era tutto quanto sotto il dominio romano avere delle Mura significava evidentemente delle barriere fisiche contro il contagio quello che è una cosa credo su cui tutti quanti possiamo riflettere è che se avessimo fatto una riflessione di questo tipo prima del covid beh non avremmo avuto senz'altro quello trasporto che abbiamo perché l'abbiamo vissuto l'abbiamo sperimentato molto spesso si dimenticano gli storici io sono in un contesto scientifico devo dire che però sono in un dipartimento di scienze dell'ambiente della prevenzione perché adesso l'archeologia è qualcosa di interdisciplinare come ben sapete però dobbiamo tenere conto della lezione degli storici nel 2012 qui c'è stato un terremoto nessuno ho sentito agli inizi parlare tu lo conosci molto bene questo perché hai studiato a fondo gli estensi che sotto gli estensi c'è stato un terribile terremoto abbiamo sentito in quel frangente tanti geologi che ci dicono che i terremoti non si possono prevedere però la memoria storica è importante perché da quel momento in poi ci siamo ricordati effettivamente che avevamo una memoria storica poco fa si è parlato dei medici appunto si è detto che durante quella peste i medici erano preservati se avessimo avuto l'umiltà di raccogliere la lezione di chi ha vissuto la medesima esperienza prima di noi probabilmente molti medici non sarebbero morti e i medici sono fondamentali per arginare i contagi quindi direi sostanzialmente che questo dialogo tra presente passato e futuro è importante e quindi insomma l'approccio del resto che noi usiamo nell'università di Ferrara come potete vedere è un rapproccio interdisciplinare perché tanti occhi e tante mani riescono a studiare meglio e a cogliere quelle pieghe che sembrano insignificanti nella storia ma che molto spesso sono fondamentali per la comprensione del nostro presente per prepararci meglio al futuro grazie ringrazio Ligio Zervini per questa bellissima chiusura alla quale io non voglio aggiungere altro chiedo se qualcun altro dei nostri ospiti vuole aggiungere qualcosa la chiusura è fantastica so che non c'è tempo per le domande però sì mi scuso non abbiamo tantissimo tempo ma una domanda ci sta un intervento ci sta grazie complimenti innanzitutto a tutti i relatori al professor Zerbini alla Chiara Beatrice Vicentini e alla Barbara si è sentito parlare di un argomento che è molto interessante soprattutto molto attuale la peste ora pensiamo soltanto ad una cosa ad una cosa che è stata forse data non una giusta enfasi perché è stato nominato Gersin da Chiara se non sbaglio chi è che ha nominato Gersin Alexander Gersin forse l'ha nominato il professore chi è che ha nominato Alexander Gersin chi è che l'ha nominato tu allora è un aneddoto che è molto curioso molto interessante ma che in realtà un uomo soltanto che era un allievo di Louis Pasteur quindi stiamo parlando della quasi della fine del 1800 a un certo punto decide di lasciare il suo maestro e quindi decide di lasciare il prestigioso istituto Pasteur di Parigi per recarsi in Vietnam perché va in Vietnam perché in Vietnam era in corso la terza pandemia di peste e allora lui con la sua diciamo grande esperienza di pastoriano di grande microbiologo era tra l'altro un medico che cosa fece in una piccola capanna isolò il bacillo della peste da un linfonodo di un paziente che era morto in quei giorni di corso quindi voi immaginatevi la scoperta di un uomo che riesce a dividenziare il bacillo della peste dopo secoli tremendi di una mortalità incredibile se si pensa soltanto all'Europa erano morti 50 milioni di persone quindi aveva decimato tutta quasi tutta la popolazione europea ma Yersin quando fece questa scoperta perché era tra l'altro anche un personaggio molto diciamo in voga in quell'epoca scrisse al suo maestro e gli disse caro professor Pasteur ho evidenziato il bacillo che forse è all'origine della peste con una falsa modestia e quello gli disse io preferirei chiamare questo microrganismo Pasteurella Pestis il Pasteur grande anche lui ovviamente come tutti sanno scrisse a Yersin dice all'epoca non c'era internet ovviamente neanche ancora il telegrafo e gli disse no la scoperta è tua la devi chiamare Gersin a Pestis ma la grandezza di Yersin non sta soltanto nell'avere evidenziato il bacillo della peste è stato quello che antesignano della scoperta in realtà del menage a quattro cioè vale a dire ratto pulce batterio e uomo quindi la malattia si articolava in queste quattro diciamo specie differenti e quindi in un certo senso anche delle zonosi ora il professor Zerbina ha parlato di zonosi come ne hanno parlato tutti volevo aggiungere qualcosa vale a dire le zonosi sono ancora in un certo senso un mistero perché anche Barbara ha accennato poc'anzi che in realtà sì la pulce ma forse ci sono anche altri parassiti forse anche chissà che cosa che trasportano il bacillo dalla peste e allora se si pensa praticamente anche al covid quante stupidaggini sono state dette sul covid il pipistrello hanno ammazzato decine di milioni di quei poveri visoni che non c'entrava un tubo niente praticamente sulla trasmissione del covid non si era capito inizialmente che fosse una malattia prevalente trasmissione respiratoria così come pure l'influenza spagnola non abbiamo sentito parlare di influenza spagnola ma l'influenza spagnola le misure che ha annunciato che ha detto Chiara poc'anzi sul continuamento della peste da parte di personaggi che all'epoca erano dei grandi scienziati dobbiamo dire così perché avevano preconizzato che la peste forse si poteva arginare in quel modo bene e così ancora prima nel tredicesimo quattordicesimo secolo ad Alghero pensate un protomedico non so che cosa fosse aveva che si chiamava Anguilero credo Tiberio Anguileri aveva preconizzato che la peste si poteva arginare facendo un triplice cordone sanitario quindi tutte le navi o tutte le imbarcazioni da e per Alghero dovevano essere per forza bloccate che così non arrivava ma quindi che cosa non arrivava il bacillo o arrivava il ratto perché il ratto è la il bacillere è la pulce sono elementi di globalizzazione se vogliamo ma no quindi così pure come la SARS la SARS sì lo zibeto l'ospite della SARS ma è vero che è solo lo zibeto o sia nedata in qualche altro ospite ecco quindi i misteri delle zoonosi che sono ancora in essere di cui ancora tanto dobbiamo sapere quindi io volevo soltanto dire questo perché mi sembrava opportuno in questa serie puntualizzare che questa malattia che in realtà ha insegnato tanto purtroppo però non si è fatto incetta di questi importantissimi insegnamenti del passato e sembra che ce ne dimentichiamo ogni volta perché quando è scoppiato come uno tsunami il covid sono scesi un po' tutti dalle nuvole tutti perché prima hanno chiuso la Lombardia poi hanno chiuso l'Italia e va bene e poi diciamo però non si è andata a vedere quello che succedeva né con l'influenza viaria né con l'influenza spagnola né con la peste perché se noi andiamo a vedere quel documento di cui parlava Chiara poc'anzi a proposito della regolamentazione delle norme che stabilivano d'accordo generali come doveva comportarsi un cittadino e quindi non assembramento non andare in chiesa non andare in luoghi pubblici eccetera esistevano già da allora grazie grazie avete qualche commento oppure allora io ringrazio ovviamente tutti voi per aver reso possibile questo incontro quindi grazie grazie anche al pubblico che è stato presente oggi invito tutti al prossimo incontro che sarà circa tra un mesetto all'inizio di maggio e se avete domande o curiosità o volete in qualche modo di nuovo interloquire con i nostri ospiti di oggi siamo tutti invitati all'aperitivo come giustamente si stava citando prima qua di fronte al Leondoro quindi la discussione può continuare in maniera molto più informale magari bevendoci qualcosa in compagnia quindi grazie davvero a tutti voi per essere stati qua in compagnia nostra oggi pomeriggio grazie 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 a tutti